Sono ore decisive per la politica in vista delle amministrative terramane in programma in primavera, ma la grande notizia di oggi è che Carlo Antonetti ufficialmente è candidato sindaco della città di Teramo. Dopo l'incontro con il comitato civico, quell'ha proposto l'avvocato terramano ha sciolto le riserve e ha colto l'invito a candidarsi. Per il centrodestra, che deve ancora decidere su quale nome puntare, l'unica certezza emersa dal tavolo regionale svoltosi ieri a Pescara è la ritrovata pace, dopo lo strappo delle elezioni per il presidente della provincia di Teramo, che a fine gennaio hanno chiamato al voto sindaci e consiglieri comunali. Dunque ora il centrodestra valuterà se appoggiare o meno la candidatura di Antonetti o puntare su Pietro Quaresimale, assessore regionale della Lega ed ex sindaco di Campli di lungo corso, o su Pasquale Tiberi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, in carica al secondo mandato, portando però così a quattro il numero dei candidati. Sul fronte Antonetti l'unica certezza è che in favore dell'ex presidente del Teramo Basket in Serie A, ora alla guida del comitato organizzatore della cinquantesima edizione della Coppa Interamnia, c'è un corposo comitato di area civica, di cui fa parte anche l'ex candidato sindaco di cinque anni fa, Alberto Covelli. Ma il nome di Carlo Antonetti ha acceso gli interessi anche tra il coordinamento comunale e regionali di azione, che ha annunciato di voler rincontrare l'ex presidente per meglio comprendere quali potrebbero essere la sua visione di città e le possibili corrispondenze. L'azione lo voluterà con grande attenzione perché è una candidatura che nasce dai cittadini, dai professionisti, dagli imprenditori della città di Teramo, quindi nasce dal basso, è un'energia importante, ha un profilo di qualità per Teramo e quindi lo valuteremo, lo incontreremo con grande attenzione e quindi azione nelle prossime ore, in base alle dinamiche che si svilupperanno, prenderà le sue decisioni. Grazie. Grazie.